Mi chiamo Stefano Rho, sono il coordinatore dell'hotel Sole Blu di Rimini, tre stelle superiore, aperto tutto l'anno. Ha semplificato la mia vita e ha in quel modo anche semplificato la vita dei miei collaboratori. Di conseguenza abbiamo avuto tempo di fare il nostro lavoro di sempre, front office, accoglienza. Mi ha portato l'immediata risposta del cliente ai nostri servizi e di conseguenza non ho perso nulla di prenotazioni e ho aumentato così le vendite. Sì, le consiglierei questo sistema perché è fatto molto bene, è stato curato nei dettagli. Ripensandoci un po', sinceramente ho paura a consigliarlo perché in effetti potrebbero diventare dei competitor molto audaci.